Siamo a Spello, nel cuore della città. Guarda che muro, guarda che struttura, tutto bellissimo. Mamma mia, guarda qua. Ecco qua, questo è un ospite, è un frate, un tubloco. Non è uno espellino, guarda. Signori, guarda qua, bellissima Spello, non ho mai visto una città così bella. Ecco, è fatta tutta con queste pietre, ma è stupenda. Guarda, sembra di stare in un altro mondo ragazzi, veramente. Non sto scherzando. Mamma mia, se così è il paradiso, voglio andare in paradiso. Guarda, guarda, guarda. C'è un silenzio tombale, paradisiaco direi. Sono solo io che sto parlando, non c'è nessuno qua. Tranne quei due là fuori, ma quelli sono il mio fratello e la mia cognata. Che siamo in visita qua, a Spello, provincia di, credo, provincia di Perugia. Mamma mia ragazzi, io penso che questo è anche più bello di Assisi, eh. Anche se non l'ho visitato Assisi. Ma questa città, questa parte di Spello è bellissima. Guarda, c'è sembra di stare in un presepio. Se il presepio è così bello, voglio fare pure il pastore. O no? Solo io? O anche voi fareste i pastori in un presepio così bello? Io penso di sì. Guarda. Ti viene il magone. Stupenda questa zona. Vabbè, c'è solo una vespa che rovina il paesaggio, ma per il resto... Quelle sono le campane. Probabilmente della chiesa. Della chiesa. Un portone vecchio. Vabbè. Sento solo una tv, ma... Vero, eh? Bellissima questa zona. Bellissima, ragazzi. Consiglio a tutti di visitare Spello. Non ve ne prendirei assolutamente, anzi. Vi verrà voglia di rimanere qui. E di non andarvene più. Come voglio fare io. Vorrei. Vabbè. Ciao, raga. Stacco. Grazie. Grazie.